Acque agitate nel governo regionale dopo l'impugnativa dell'esercizio provvisorio del bilancio della regione da parte del governo nazionale. Le opposizioni insorgono. Un governo regionale pasticcione è riuscito a farsi impugnare persino l'esercizio provvisorio, commenta il capogruppo PDLars Giuseppe Lupo. Mentre il segretario regionale DEM, Antony Barbagallo, afferma che per colpa del governo musumeci la Sicilia detiene il record di leggi impugnata in questa legislatura. Gli fa eco il Movimento 5 Stelle che parla dell'ennesima impugnativa che subisce questo governo regionale da parte dello Stato. I pentastellati fanno riferimento al fatto che circa la metà delle norme approvate dall'Ars nel 2021 sono finite nel mirino del governo. Su 19 leggi approvate all'Ars, infatti, 10 sono state impugnate. Un bilancio di impugnative senza precedenti in un arco di tempo così breve. Ma il governo non ci sta e difende il suo operato. Il vicepresidente della regione siciliana, Gaetano Armao, assessore all'economia, intervenendo sul punto, precisa che l'impianto finanziario relativo all'esercizio provvisorio non è stato assolutamente toccato. La parte impugnata dal governo nazionale riguarda le proroghe in materia di corpo forestale dell'ex Aras, associazione regionale allevatori della Sicilia. Il resto rimane inalterato senza pregiudizio agli equilibri dell'esercizio finanziario. Intanto i dipartimenti interessati dall'impugnativa hanno chiesto al governo di resistere di fronte alla Corte Costituzionale in difesa delle previsioni normative contestate.